Tatechesi 270, Vangelo, Marco 9,41-50 È meglio per te entrare nella vita, con una mano sola, anziché, con le due mani andare nella Genna. Abbiamo già effettuato alcune spedizioni delle medaglie miracolose, sono molte le richieste arrivate e si sta lavorando per inviarle al più presto. I tempi della consegna da parte delle poste non dipendono da noi e preghiamo perché ci sia un'accelerazione. Preghiamo perché i pacchi arrivino tutti a destinazione, e di questo sono fiducioso per la speciale benedizione impartita a tutte le medaglie. Ci sono arrivate più richieste di immagini e medaglie dalle stesse persone e questo rallenta il nostro lavoro. Nulla di grave comunque, tutto è semplice se viene inviata una sola mail per la richiesta. Se avete comunicazioni da dare o volete cambiare la quantità richiesta, va bene inviare altre mail. Le email sono gradite e lo stesso invio fa entrare quella richiesta nelle mie preghiere. Scrivete liberamente per le vostre richieste, le preghiere, i consigli e altro. Comprendo la vostra gioia quando ricevete le medagliette della Madonna che stiamo continuando ad inviare. Lo stesso discorso vale per le immagini della Madonna miracolosa. Sono moltissime le richieste e molti le vorrebbero avere subito per poterle esporre in casa e ricevere aiuti dalla Madonna, ma purtroppo ancora non siamo riusciti a stamparle perché il demonio intralcia in tutti i modi il nostro apostolato. Questo è il mio impegno e facciamo tutto il possibile per inviare presto i pacchi. È molto importante portare degli oggetti sacri addosso ottenuti in casa, con fede, sono già arrivate e testimoniano le grazie ricevute. Dio ci vuole davvero bene, ci ha donato suo figlio, morto per la nostra salvezza e una madre dolcissima piena di compassione per ognuno di noi. Una madre che piange per tutti i peccatori che rischiano di cadere irrimediabilmente verso gli abissi infernali e che vivono già qui un inferno anticipato. Anche se nessuno di noi è in grado di stabilire la condizione ultima dei peccatori, io mi addoloro fortemente quando vedo tantissime persone fare della perversione la loro regola di vita e quel che è peggio è che se ne vantano anche. Molti personaggi famosi per attirare l'attenzione pubblica attraverso i mass media, rivelano comportamenti oscene della loro vita, convinti di ricevere come un'investitura privilegiata, con il loro ingresso nel club dei perversi. Come è cambiata la società? Gesù è stato severissimo riguardo agli operatori di scandali. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Il comportamento riprovevole di tanti personaggi pubblici e purtroppo di tantissimi vescovi e cardinali causano conseguenze gravissime in quanto le persone semplici, guardando il loro modo di vivere scellerato, rischiano di smarrirsi e di perdere la fede. La perdita della fede è quanto di più grave ci possa capitare. Infatti chi perde la fede generalmente intraprende poi una vita di peccato rischiando così di allontanarsi per sempre da Dio. Gesù dice ancora, se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala, e se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nella vita, con una mano sola, anziché, con le due mani andare nella genna, nel fuoco inestinguibile. È meglio per te entrare nella vita, con un piede solo, anziché, con i due piedi essere gettato nella genna. È meglio per te entrare nel regno di Dio, con un occhio solo, anziché, con due occhi essere gettato nella genna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Cosa significa tutto ciò? Gesù usando il termine tagliare, gettare via, vuole farci capire che occorre rinunciare, con decisione a tutto ciò che è peccato. Non bisogna guardare ciò che ci può indurre in tentazione. Non bisogna usare le mani per far del male. Non ci si deve recare in luoghi sbagliati. Il cristiano è l'uomo che, con decisione sa dire no al peccato e si addio. Queste norme devono essere la guida della nostra vita, la loro osservanza ci assicurerà sempre la benedizione di Dio. Il Vangelo sempre indica in modo chiaro quale deve essere la condotta di un vero cristiano. La via che deve percorrere un seguace di Cristo è quella del rinnegamento. È una via impegnativa, ma chi la percorre finisce per scoprire orizzonti spirituali, sconosciuti e bellissimi. Pensate a uno scalatore. Ha la fatica che deve sostenere per giungere sulla cima, ma quando finalmente l'ha conquistata il suo sguardo può finalmente spaziare su paesaggi meravigliosi, talmente belli da far dimenticare la fatica sostenuta. La vita del cristiano è una salita continua per raggiungere la vetta della santità. In certi momenti è tale lo sforzo che sembra di non poter più continuare, ma proprio in quegli istanti Gesù ci tende la mano, pronto ad afferrare chiunque chiede il suo aiuto. Gesù sostiene sempre, con la sua invincibile fortezza che è deciso a percorrere fino in fondo il cammino intrapreso. Ed ecco. Man mano ci si avvicina a Dio l'orizzonte dell'anima si dilata. Si scopre l'azzurro di un cielo mai visto, la bellezza di una luce sconosciuta, si gusta una pace mai provata. Si sente la carezza di Dio che penetra nell'anima, la vivifica, la fa trasalire di gioia e la introduce sempre più nell'incanto dell'ineffabile mistero divino. La vita del cielo è qualcosa di inconcepibile e la scopriranno, fin da quaggiù coloro che amano il Signore. Infatti a tutti costoro Dio solleverà il velo del mistero, e svelerà un lembo di paradiso. Chi ha assaporato questa gioia troverà insipide e insignificanti tutte le felicità terrene. Chi ha intravisto la gemma fulgidissima del paradiso non può provare attrazione per nessun'altra cosa creata eppur continuando a vivere nel mondo. Tiene fisso il suo sguardo e il suo cuore in quegli splendori eterni. Come vorrei che tutti comprendessero questa verità. Come vorrei che tutti gli uomini amassero il Signore. La mia ansia di fare apostolato è tale che vorrei raggiungere tutti gli uomini della terra perché tutti conoscano Gesù e abbiano la salvezza. Ringrazio di cuore tutti i benefattori che, con la loro offerta mi permettono di continuare questa mia opera di diffusione del Vangelo. Senza il sostegno dei benefattori la Chiesa non avrebbe mai potuto svolgere un forte apostolato. Dice Gesù rivolgendosi agli apostoli, chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Se dunque Gesù dà una ricompensa per un solo bicchiere d'acqua, quanto più donerà a tutti coloro che sostengono la diffusione del suo Vangelo. Non si comprende l'importanza di favorire l'apostolato se non si raggiunge una buona maturità spirituale, non lo si comprende affatto e purtroppo si rimane saldamente attaccati ai propri beni, convinti forse di portarli nell'aldilà. Solo quelli che hanno attuato una vera conversione comprendono la necessità di evangelizzare senza posa un mondo pagano e perverso, un mondo che anche se non lo sa ha un disperato bisogno di Dio. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Marco 10,1-12, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. In questa catechesi prendo in esame un argomento molto delicato che riguarda il sesto comandamento, non commettere adulterio. La mia esposizione probabilmente non incontrerà il consenso di molti, ma io non posso predicare un Vangelo diverso da quello di Cristo. Io ribadisco la mia fedeltà a Lui e al Magistero autentico della Chiesa, non seguo certamente le teorie dei teologi moderni che vogliono a tutti i costi cambiare la legge di Dio. Gesù ha detto, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio contro di lei, se la donna ripudia il marito e ne sposa un'altro commette adulterio. Marco 10,11-12. Gesù è stato chiarissimo, non vi sono dubbi o possibilità di diversa interpretazione nelle sue parole. La verità dunque è una sola, il matrimonio è sacro e indissolubile. Consideriamo attentamente il sacramento del matrimonio, è un atto sacro e Dio ha impresso il suo sigillo sulla coppia che dinnanzi a Lui si è impegnata a rimanere fedele fino alla morte. Forse troppi hanno dimenticato questa solenne promessa fatta davanti a Dio. Forse sono arrivati impreparati a questo grande passo perché troppo immaturi e superficiali. Forse, e questo lo ritengo uno dei motivi principali, è perché non sono impegnati in un autentico cammino di fede e non pregano. La preghiera è un aiuto validissimo e indispensabile nelle difficoltà inevitabili della vita di coppia. Ci si è dimenticati che si è ricevuti un sacramento e che il Signore era il testimone principale alle nozze. Lui aiuterà sicuramente tutte le coppie che a Lui ricorreranno, con fiducia. Importantissima è anche l'intercessione della Vergine Santissima, la nostra Mamma del Cielo. Lei era presente alle nozze di Cana, e quando gli sposi rimasero senza vino, pregò il figlio perché intervenisse e il miracolo avvenne. Quando fra due sposi viene a mancare il vino dell'amore perché non si va più d'accordo. Perché è subentrata la stanchezza e la monotonia. Perché c'è stato un tradimento e non si è disposti a perdonare. Non dimentichiamo di affidarci a Maria. Il coniuge tradito non deve cercare la vendetta diventando a sua volta infedele. La vendetta serve solo a potenziare il demonio e ad allontanarci da Dio. Coloro che sono stati traditi o abbandonati cerchino il bene dei propri figli. Se ne hanno, cerchino di amarli anche per l'altro coniuge che se ne è andato e Dio sicuramente li aiuterà, con la sua grazia e, con la sua benedizione. Non potete nemmeno immaginare quali miracoli Dio compie quando vede un'anima disposta a seguire la sua legge in tutto, un'anima disposta anche a vivere in solitudine piuttosto che venir meno a un comandamento di Dio. Gesù ha pronunciato una parola molto chiara, direi fondamentale per il cristiano, chi vuol venire dietro me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Nella vita ci sono tante croci. Una malattia, un insuccesso, un fallimento economico e può esserci anche quella di un matrimonio infelice. Anche qui ci aiuta tanto l'esempio dei santi. Tante donne eroiche hanno saputo rimanere fedeli a un marito violento, a un marito che le ha lasciate per andare, con altre donne, ecc. Esse sono rimaste salde nella fede come colonne di fuoco che si innalzano verso Dio, fedeli al giuramento prestato pregando per la conversione del coniuge infedele Dio le ha esaudite e premiate. Questa è la via che conduce al Paradiso. Se ci sono poi persone divorziate e risposate ormai da anni, con magari altri figli nati nella seconda unione, la Chiesa indica la via della continenza. Ciò significa che se vogliono ricevere la Santissima Eucarestia devono impegnarsi a vivere in castità, come fratello e sorella. Impossibile? Nulla è impossibile a Dio. E Dio concede anche questa grazia a due persone che vogliono condurre una vita cristiana autentica. Non riesco veramente a concepire la pretesa assurda di tanti che dopo la separazione continuano a cambiare partner e pretendono ugualmente di poter ricevere la Santissima Eucarestia. In questo caso assolutamente no. Ci sono poi alcuni casi in cui si può richiedere l'annullamento. Sono casi in cui per motivi gravissimi e particolari il matrimonio è dichiarato nullo, ossia mai esistito. Non sto qui a elencare i motivi, ce ne sono tanti e ben definiti dalla Chiesa. Vorrei citarne solo uno perché ho conosciuto persone che hanno vissuto questa terribile esperienza. Molti matrimoni sono combinati da una volontà malvagia, ossia tramite un maleficio si induce una persona a unirsi in matrimonio, con un'altra di cui non si è innamorati. La vita di queste persone è un vero inferno e potete bene immaginare il perché. Questo è un caso in cui il matrimonio è nullo. In altri casi ancora, citati sopra, è lecito e doveroso procedere all'annullamento in modo che la parte danneggiata si possa formare una nuova famiglia. Consiglio alle coppie in difficoltà di consultarsi, con un bravo sacerdote in modo che li aiuti a trovare la giusta decisione da prendere, una decisione conforme alla volontà di Dio e non secondo il proprio capriccio. Consiglio di pregare intensamente e di intraprendere un serio cammino di fede. Nella mia esperienza ho sempre notato che dov'è presente la preghiera diminuiscono le probabilità della separazione. Devo ammettere che molti divorzi e separazioni avvengono nelle coppie per colpa di un maleficio o di una fattura fatta su un matrimonio. Proprio per questo è indispensabile intensificare la preghiera e prendere benedizioni. La famiglia è l'obiettivo principale su cui si avventa Satana per distruggerla. Guardate cosa ha fatto e cosa sta facendo. Divorzio, aborto, aperture alle coppie omosessuali, teologia gender per distruggere l'innocenza dei bambini. Il demonio ha escogitato veramente di tutto e mai si arrende per annientare questa istituzione santa voluta da Dio. Dio li creò maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e due saranno una carne sola. Sicché non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha congiunto. Il demonio sa perfettamente che colpendo la famiglia l'educazione sana dei bambini non ci saranno più vocazioni sante, non ci saranno più consacrati formati secondo il cuore di Dio. Il demonio è infaticabile nel macchinare teorie diaboliche per distruggere l'uomo, la sua dignità, la sua somiglianza, con Dio. Se ci fosse dato di vedere l'aspetto di tante anime, resteremmo inorriditi quanti uomini hanno l'aspetto di demoni incarnati. Sono vicino a tutte le coppie e in difficoltà sempre li accompagno, con la mia preghiera perché il Signore li aiuti a percorrere un autentico cammino di fede secondo il suo disegno originario d'amore. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Marco 11,11-25. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni. Abbiate fede in Dio. Oggi in pochi versetti troviamo profondi insegnamenti e alcuni episodi molto significativi. Ciò che colpisce è senza dubbio l'albero di fico che si è seccato in meno di un giorno, la mattina seguente, passando, videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Pietro si ricordò e gli disse, Maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Non aveva colpa quell'albero se mancava di frutti non essendo la stagione dei fichi, ma l'intervento severo del Signore aveva un significato istruttivo. La condanna di Gesù era un insegnamento per tutti i discepoli, occorre dare sempre frutti buoni. I credenti questo lo sanno, ma ci sono periodi in cui pregano meno e si impegnano, con minor fervore nel cammino spirituale. Un'altra azione compiuta da Gesù è quella di scacciare i mercanti dal Tempio perché la casa di Dio deve essere un luogo santo. Gesù cita un versetto di Isaia, 56,7, aggiungendo alcune parole valide in ogni tempo e specialmente oggi sono molto attuali, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Il ladro non è solo chi ruba soldi o altre cose, è ladro anche chi sottrae l'adorazione che i fedeli vogliono offrire a Dio e la dirige verso se stesso. Non c'è peggiore azione di questa e mi riferisco soprattutto a coloro che esercitano un'autorità. Gesù ci suggerisce di crescere nella fede e diventare alberi maestosi, carichi di buoni frutti e disponibili ad accogliere quanti cercano ristoro all'ombra della nostra bontà, o desiderano nutrirsi spiritualmente ammirando le nostre virtù. Se c'è la fede non ci saranno tutte quelle cose negative che Gesù ha incontrato lungo il suo percorso, l'albero di fico senza frutti e rivestito di foglie, come chi vuole ingannare, con l'apparenza, i mercanti presenti nella casa di Dio, intenti a vendere e comprare piuttosto che dedicarsi alle cose di Dio, i capi dei sacerdoti del Tempio e gli scribi che cercavano il modo di farlo morire, l'incredulità di quanti non avevano ancora compreso la sua vera identità. La fede autentica non fa agire in questi modi, al contrario indirizza verso la santità, la pratica delle virtù e l'imitazione di Gesù. Diventa facile ottenere molte grazie, il Signore lo svela chiaramente e solo chi non le cerca veramente non le ottiene. Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Molti si lamentano perché non ottengono le grazie desiderate. Forse il motivo di tutto ciò è proprio la poca fede. Chi crede totalmente, con piena fiducia e abbandono, tutto ottiene da Dio, ovviamente sempre secondo la sua santa volontà. Buona preghiera a tutti.